La realtà del purgatorio consiste proprio in questo anelito da parte delle anime di una purificazione. Purificazione che bisognava farlo sulla terra, ma per tanti inconvenienti, necessità di cose, una malattia, un incidente stradale e si muore, vengono a mancare le possibilità di una purificazione. Però non si può accedere alla santità di Dio se non vi è una purificazione. E qui allora la necessità di stabilirsi per un determinato tempo o intensità di purificazione per poter accedere davanti a Dio. Allora, già vi è un primo, diciamo, spunto di riflessione. Ho detto che il purgatorio è una necessità per la purificazione, altrimenti non potremmo accedere a Dio, alla santità di Dio. Quindi può sembrare un tempo di sofferenza, ma in effetti è un tempo di bellezza perché ci apre alla visione di Dio. Questo è stato quello che sarà un dolore terribile perché, nonostante l'intensità dell'amore, l'anima non può presentarsi a Dio in quanto macchiata, cioè priva della veste nuziale. San Giovanni Evangelista scrive, Chiunque ha questa speranza partecipa della vita divina. L'attuazione comincia da questa terra, però non si completa, come accennavo, per tanti motivi, e quindi si completa nel purgatorio. Il purgatorio ci aiuterà a completare questo cammino di purificazione e di assimilazione a Dio. Santa Caterina da Genova conferma che l'anima, di fronte alla santità di Dio, pur essendo attirata, ecco immaginiamo che Dio chiama, vieni, viene, pur essendo attirata da Lui, non resiste al confronto con la sua purezza, diventa impaziente di purificarsi e si precipita nel purgatorio. Ecco, potremmo illustrare questa scena. Dio chiama e l'anima dice, no, padre mio, abbi pietà di me, ho il vestito macchiato, mi vado a mettere la veste nuziale e ritorno subito. Vado in purgatorio e torno subito. Ecco un po' la scena che noi potremmo concretizzare, che avviene quando l'anima si presenta davanti a Dio. Santa Gestude racconta di una suora che vive nel monastero e che muore veramente in concetto di santità, per le sue virtù, per le sue penitenze, le sue preghiere intense, per l'affetto verso le consorelle. Quindi muore con questo spirito tra le consorelle di un'anima santa. E vive in purgatorio, santa Gertrude, alla visione di questa suora. E lei immagina che già sta nella gloria del Signore e invece sta ben vestito, un vestito smagliante, bellissimo, però a volte triste. E si rivolge a questa suora. Com'è che sei così triste? Stai nella gloria? Dice no, non ancora. Ho bisogno di purificazione. E santa Gertrude si rivolge a Gesù e dice Ma chiamala, è un'anima santa. E Gesù, vieni, vieni, vieni. No, il caro Gesù, debba andare a mettere la veste inuziale. Come posso partecipare alla grande processione tra le anime elette? Tutte quante mi direbbero, e così ti sei presentato nella corte celeste, davanti a Dio, così ti sei presentato. E quindi va via, si allontana, perché deve purificarsi. Gesù sollecitato quindi non solo da madre Gertrude, ma anche dalle altre consorelle già viventi in cielo. E la suora in questione? No, non posso. Non posso partecipare alla gloria del cielo perché non sono degna ancora di essere presente. E santa Gertrude fa notare che lei già è arricchita di un vestito meraviglioso. E la consorelle defunde e risponde questa gloria non è che la francia delle vesti sublime dell'immortalità. Ben altra cosa è vedere Dio, il vivere con Lughi e possederlo per sempre. Santa Caterina da Genova, quindi come madre Gertrude, ci danno questa indicazione così forte, così bella, che per stare davanti a Dio ci vuole la purificazione. Ma questo ci deve anche spingere a fregare, a suffrogare le anime che si trovano nell'altra vita, che si trovano in un momento bello, di pace, perché sono in compagnia con i santi, però soffrono perché non hanno ancora la visione di Dio. Grazie per la visione!